Prosegue la Pulse Scudetto per il Teramo, domani arriva qui allo stadio comunale il Ponte d'Era che in settimana ha perso 3-4 in casa contro il Follì. Sì, adesso al di là di cosa abbia fatto il Ponte d'Era, sarà comunque una partita difficile perché giochiamo contro una squadra che ha vinto il campionato come l'abbiamo vinto noi quindi a questo punto quando si parla di partite di questo livello nulla è facile. E' chiaro che noi abbiamo il vantaggio di poter far tesoro della vittoria che abbiamo ottenuto a Forlì e quindi tutto sommato alla fine potrebbe bastarci anche il pari però la nostra intenzione è di giocare per vincere al di là della forza dell'avversario che probabilmente anche non avendo, o meglio avendo poco da perdere potrebbe comunque farci una partita difficile poi da poter vincere. Il Ponte d'Era è una squadra che ha un attacco molto forte, un centrocampista come il Canfora che sui calci piazzati può mettervi in difficoltà. Sì, è una squadra che è al di là che è anche molto solida in difesa perché non ha preso tanti gol e dalla metà campo in avanti ha giocatori di grande qualità, giocatori bravi nell'uno contro uno che sanno trovare il gol in ogni circostanza e quindi è una squadra forte. avranno probabilmente l'assenza di Magnani che è stato per tutto il campionato il loro punto di riferimento ma suppongo che con quello che hanno alle sue spalle sarà una squadra ancora più difficile da giocarci contro perché probabilmente acquisterà anche qualità in più facendo giocare qualcun altro. Pensa di continuare nelle sperimentazioni o si affiderà all'undici che vi ha portato a promozione? Ma probabilmente faremo un po' l'uno e un po' l'altro. Su a Forlì considerato che avevamo tanta gente non al meglio della condizione che comunque non dava grande segno di motivazione ho voluto alternare provando anche un modulo nuovo ma solo per evitare che il Forlì che gioca bene che ha un modulo che durante il campionato non abbiamo mai trovato era stato sperimentale anche per ovviare la loro forza. È chiaro che giocando in casa o volendo vincere riproporremo un modulo più consono a quelle che sono state le nostre qualità durante il campionato al di là di chi giocherà.